Con Mr. Rugolotti siamo alla vigilia del campionato, intanto sarà un po' un esordio anche per te, come lo stai vivendo, sarà la prima in Serie B? Con molta curiosità, con molta serenità devo dire sinceramente, perché penso che alla fine il carattere uno non lo deve cambiare. Sono convinto di avere a disposizione un buon gruppo, ancora non stiamo benissimo, ma questo mi sembra logico che dopo neanche un mese di preparazione, ci sia ancora molto da lavorare, ma questi ragazzi lo sanno, però sono convinto che domani faremo una buona partita. È inutile dire che il Grosseto ci andrà in campo per vincere. Questo mi sembra ovvio, ci mancherebbe che anche fuori casa, in casa, la mentalità deve sempre essere la stessa, poi ci possiamo riuscire o non riuscire, questo è un altro discorso, ma la mentalità è quella di non aspettare, di andare a cercare di fare il risultato, perché queste sono le nostre caratteristiche. Sarà un Grosseto che vedremo un po' con l'assetto che ha tenuto il precampionato, squadra equilibrata, però si punterà magari sulla seconda punta accanto a Sforzini? In questo momento penso di sì, penso che sia la soluzione più giusta, perché Nando sta facendo un pochettino fatica senza un aiuto vicino, perché ancora non siamo neanche lui al massimo della condizione. Dobbiamo recuperare alcune situazioni, trovare un buon assetto difensivo, perché abbiamo avuto tanti cambiamenti dovuti agli infortuni, però ho a disposizione dei ragazzi giovani che probabilmente sulla carta non dovevano essere protagonisti dall'inizio, si trovano a essere protagonisti, io sono convinto che faranno una grande partita. L'orario delle 19 con il caldo potrà condizionare magari prestazioni? No, io penso di no, a questo punto ci siamo allenati sempre con 40 gradi, penso che siamo abbastanza temprati, indubbiamente giocare con il fresco fa più piacere, però non deve essere una scusante.